a meri a radio presenta il pianoforte buonasera e benvenuti a il pianoforte questa sera ascolteremo di domenico scarlatti la suonata in fa minore k 481 e la suonata in la maggiore k 39 seguiranno i quattro brani per pianoforte i quattro clavin stuc opera 119 di johannes brams l'intermezzo in si minore l'intermezzo in mi minore l'intermezzo in do maggiore e la rapsodia in mi bemolle maggiore di franz schubert ascolteremo la suonata per pianoforte il la minore opera 143 di 784 nei suoi tre movimenti allegro giusto andante allegro vivace di sergei rakmaninov ascolteremo le variazioni per pianoforte su un tema di corelli la follia opera 42 e la puntata concluderà con lo studio numero 10 dagli studi d'esecuzione trascendentale l'allegro agitato molto di franz liszt al pianoforte andrea watts anch'io Grazie a tutti. 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 a tutti.